Questa fa così schifo che è bella Frippati a tutti, io sono Octi di Pura Fibra Italiana con questo mio cappellino da 50 centesimi E che il potere del connessionato puro sia con voi amici miei che vi siete iscritti e avete attivato la campanella Per non perdere mai i video e le live che ci saranno su questo canale In questo video valuteremo tutte le skin Vedrete in alto a destra qua tipo La scaletta con i vari significati in modo da capire che cosa intendo quando dico una certa roba Io vi ricordo ancora una volta di iscrivervi a questo canale per non perdere mai i video e le live E di attivare la campanella che è molto importante perché tanto le notifiche non ve le manderanno lo stesso perché YouTube è buggato E arriviamo a 5000 like a questo video per valutare anche tutti i deltaplani picconi Molti di voi avranno anche notato che ho questi nuovi occhiali e nel video ci sarà una piccola spiegazione di cosa sono questi occhiali e perché li sto usando Detto ciò, buona visione E così siamo su questo sito qua che ci permette di vedere tutte le skin in gioco Ho controllato che sia aggiornato ed è aggiornato fino alle skin di Marshmallow eccetera eccetera Quindi sì, è aggiornato come sito E quindi direi di partire subito nel valutare tutte le skin leggendarie Come vedete ci sono 5 metri di misura e sono schifo quando una skin proprio non mi piace È normale quando una skin è tranquilla, cioè nel senso non mi dispiacerebbe utilizzarla Poi ci sono le skin carine che hanno qualcosina in più di quelle normali ma che comunque non sono chissà che Poi ci sono le skin belle che mi piacciono ma non troppo E poi ci sono le skin strepitose che veramente sono stupende Quindi direi di andare subito a vedere tutte le skin E la prima che vediamo è Aim che per me è una skin normale nel senso che non mi piace chissà che tanto ma ne chissà che troppo Ragazzi due premesse prima di iniziare so già che questo video durrà tantissimo perché chiaramente devo valutare tutte le skin Quindi se avete voglia di guardarlo fino alla fine beh guardatelo E seconda premessa sono le mie opinioni Chiaramente a me una skin può piacere come una skin non può piacere E magari voi non la pensate così ma non è che dovete valutare i miei gusti Cioè alla fine sono mie opinioni Questa è una skin bella che purtroppo non ho Arc è una skin bella barra carina L'unica cosa che non mi piace è che ha i capelli corti e quello ha rovinato tutto Poi c'è la skin Batlound che a me non piace Però direi che è normale perché comunque no anzi a me fa proprio schifo Poi il Cavaliere Nero che per me è bella Non è strepitosa è solo bella Calamity che è bella Carburo che è normale Poi c'è lo squalo questo qua schifo assolutamente Questa qui è carina Questa qui schifo Questa qui Carina Schifo Bella Schifo Mi dispiace Non riesco ad apprezzarla questa skin Manny nella sua versione da lupo È bella come skin Manny nella sua versione normale Con giacchetta è una skin normale Non la userei E DJ Bob schifo Alla deriva in O nella sua forma base così O nella sua forma finale È una skin molto bella Enforcer Schifo Eon Schifo Fate Schifo Flytrap Super schifo Nel senso che se ci fosse una roba sotto lo schifo ecco sarebbe lì Frostbite è una skin carina Frozen Love Ranger è una skin carina Raven è una skin bella Frozen Red Knight è una skin bella Elsa è una skin normale Havok è una skin normale Haim è strepitosa Nella sua versione senza la maschera Senza il cappello è strepitosa È una delle mie skin preferite Forse è la mia seconda skin preferita Quindi sì La vorrei shoppare appena torna nello shop Il Krampus è una skin schifa Il Leviatano è una skin schifa Il Love Ranger è una skin schifa Lynx è una skin bella L'unica cosa che gli rovina tutto è il codino Quando ce l'avete nella forma finale C'ha il codino e è brutta Magnus è una skin bella Mosty Myrman questo qua è una skin schifa 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 Omega è una skin bella Omen schifo Panda Team Leader skin strepitosa Forse anche questa è una delle mie top preferite Non lo so perché ma questa veramente mi piace tantissimo Power Cord normale Ragnarok con una skin bella Raptor una skin carina Corva Femmina è una skin normale Il Corvo è una skin bella Cavaliere Rosso carina Rex è una skin bella Normale Normale Carina Normale Normale Schifo non mi piace Normale Normale Schifa Bella Carina in realtà Carina Schifo Schifissimo proprio Non mi piace questa Quindi vi dirò normale Normale E siamo arrivati all'ultima pagina delle skin leggendarie Bella Normale Schifo E così abbiamo finito le skin leggendarie Cavolo ci abbiamo messo già 8 minuti Accidenti Comunque ragazzi per vedere molto bene tutte queste skin Vi consiglio assolutamente gli occhiali no wave Devo assolutamente parlarvene Me li hanno mandati Vi dirò la verità Trovate il link in descrizione comunque E ho preso questi occhiali perché Semplicemente Stando tantissimo al computer Alla playstation Alla tv O al telefono Cosa del genere Gli occhi si affaticano davvero davvero tanto E dovete sapere che tutti gli schermi Hanno la fastidiosissima luce blu Che ci causa stanchezza agli occhi Gli occhi rossi Prurito agli occhi Una sensazione di fastidio E altre cose di questo genere Quindi ho preso questi occhiali Con filtro riflesso luce blu Quindi in pratica Quindi annullo per quanto possibile Ciò che sono gli effetti fastidiosi della luce blu Quindi vi consiglio di fare un salto sul loro sito E valutare un po' i loro occhiali Addirittura il loro sito è fighissimo Perché potete provare direttamente gli occhiali sul sito Vi piazzate davanti alla webcam Gli occhiali compaiono sopra di voi E voi potete muovervi per vedere come vi stanno gli occhiali Veramente una cosa bellissima Vi consiglio Fatevi un favore Proteggete la vostra vista per la salute prima di tutto Tanto fare un salto sul sito non vi costa nulla Proteggetevi perché veramente Se passate tanto tempo davanti agli schermi È molto importante Se foste ulteriormente interessati Alla fine del video Faccio anche l'unboxing degli occhiali Di come mi sono arrivati Eccetera eccetera Per vedere tutto ciò che troverete all'interno Di un paio di occhiali una volta acquistato Dopo aver valutato le schermi legionari Andrei alle skin comuni Così vi faccio sapere quali sono le mie preferite Allora il nero è una delle mie preferite Quindi bello Poi c'è Headhunter che è bella Ramirez che è carina John C che è strepitosa Una delle skin migliori in assoluto Lui che fa schifo E tutto il resto sono normali Quindi in pratica John C è strepitoso Headhunter è bella Ramirez è carina Lui è bello E tutti gli altri invece Cioè lui fa schifo E loro due sono normali Penso che ci siamo capiti Adesso andrei a valutare le rare Perché anche loro hanno quattro pagine E poi andremo su quelle epiche Che sono tantissime Allora Absolute Zero mi fa schifo 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 Normale Carino Schifo Bello Schifo Schifissimo Carino Carino Schifo 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 Carino 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 Bello Schifo Schifissimo Schifo Schifissimissimo Schifo 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 Questa fa così schifo Che è bella C'è una cosa strana Ma è così una skin ignorante Che è bella Schifo 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 Cosa? Come cavolo si fa ad avere questa skin femmina? Io ce l'ho maschio Come si fa ad avere femmina? Cosa? Cosa? Boh comunque bella Normale 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 Schifo Bella Normale Carina Normale Schifo Normale Bella Anzi carina a dire il vero Carina Bella Carina Schifo Schifo Perché ho detto questo carina? Fa schifissimo Schifo Schifo Bella Bellissima Bella Comunque non strepitosa ma bella Schifo 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 Carina Bella E siamo arrivati all'ultima pagina dai Schifo 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 Carina Carina Schifo 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 Carina Bella Ma devo andare super veloce Quindi Carina Schifo Carina Carina A me non piace tantissimo la galaxy non so perché Bella Bella Carina 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 Schifo 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 Normale Schifo 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 Carina, carina, normale, normale, bella, schifo, la mia skin preferita strepitosissima, la mia skin in assoluto preferita, bella, normale, normale, schifo, schifissimo, bella, schifo, 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 normale, carina, carina, schifo, carina, schifo, schifo, carina, normale, 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 schifo, schifissimissimissimissimo, super schifo, super schifo, schifo 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 e schifo e queste sono le valutazioni di tutte le skin secondo me e ora vi lascio all'unboxing degli occhiali questo è ciò che trovate all'interno di un pacchetto no wave quando vi arriva in questa scatola è contenuto tutto questo allora prima di tutto questa bellissima scatolina per mettere i nostri occhiali con appunto il simbolo della no wave e una chiusura diciamo magnetica molto comoda e anche questa specie di sacchetto apposta per mettere gli occhiali all'interno con anche la cordicella per chiuderlo dopodiché abbiamo anche il libretto be smart look good quindi sia intelligente e sia anche super figo tu hai deciso che il tuo benessere visivo avesse bisogno di uno stile unico noi abbiamo pensato che il bello e il benessere dovessero coesistere tutto questo l'abbiamo fatto insieme questo è il loro super slogan super bellissimo la loro super missione e devo dire che la compiono in pieno abbiamo appunto questo sacchetto dove sono contenute comunque tutte queste cose qui il panno il panno diciamo per pulire che se devo dire la verità è il panno migliore che io abbia mai provato in vita mia perché è super morbido e pulisce super bene e per finire gli occhiali ragazzi potete provare sul loro sito gli occhiali gli occhiali hanno le lenti neutre quindi io che ci vedo benissimo non ho bisogno delle lenti quindi hanno le lenti neutre ma la cosa importante è il filtro riflesso antiluce blu in questo modo mi proteggo dalle luci blu gli occhiali hanno questa colorazione qua sul sito trovate comunque tutti i loro modelli questo modello qua si chiama No Wave Concept è scritto qui e io l'ho scelto perché mi ricorda tantissimo gli occhiali del professore della casa del papel non sono proprio uguali ma secondo me è il modello che più ci si avvicina la cosa più figa in assoluto anche se quando la mette a fuoco è che potete mettere la vostra scritta direttamente sugli occhiali sulla lente potete scrivere quello che volete se solo mettesse a fuoco con una piccola aggiunta in modo da personalizzare ancora di più i vostri super figli occhiali e devo dire che a me piace tantissimo ed è anche il mio codice supporto a un creatore quindi utilizzatelo trovate il link del sito in descrizione fateci un salto A presto